Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Cinema Teatro Massimo di Pescara ieri sera era pieno in occasione dello spettacolo promosso dall'Assessorata delle politiche sociali del Comune nell'ambito della rassegna 365 giorni no alla violenza sulle donne. Sul palco la giornalista Paola De Simone che ha ideato e condotto una serata evento ricca di spunti e di riflessione grazie ai contributi dell'attore testimonial della serata Marco Bocci e di due volti noti della musica italiana grazie a Di Michele e Rossana Casale che si sono raccontati e hanno lanciato un messaggio alla platea dicendo il loro no alla violenza sulle donne rivolgendosi agli uomini mostri. Tra riflessioni e momenti di spettacolo il giornalista Luca Pompei ha dato la parola al Centro per Uomini Autori di Violenza che a Pescara ha già raggiunto ottimi risultati tra chi segue un percorso obbligatorio e chi decide in maniera autonoma di farsi aiutare. L'auspicio ha detto l'assessore Adelchi Sulpizio e che un giorno ci troveremo su questo palco non per parlare di violenza sulle donne ma di altro e intanto noi abbiamo puntato i riflettori su questo tema già da diversi anni e lo facciamo 365 giorni l'anno con una rassegna che va avanti da novembre a marzo senza mai abbassare la guardia. E siamo in campo con altri progetti come le case di sgancio per le donne che sono state vittime della violenza, è importante l'attività di Ananche della Rete a Sostegno delle Donne che esiste da tanti anni in città. Inoltre, e questa è la cosa più bella, parliamo ai ragazzi attraverso le scuole per dire agli uomini fermatevi.